Musica Spettacolo, registicamente molto bello, effetti speciali molto contestuali e la storia sta diventando sempre più un tripudio di roba difficile da fareci dietro, ma bello Io concordo pienamente, è il film veramente bello e dei tre è quello che mi è piaciuto di più alla fine è veramente costruito bene, le animazioni sono pazzesche, continua a sorprendere Lo consiglierei Assolutamente consigliato, se non l'avete visto venite assolutamente a vederlo E recuperate gli altri Un film meraviglioso che consiglio a tutti di venire a vedere Sono curiosa di capire dove vuole andare a parare, ma di per sé il film in sé non è il massimo Sono un po' confusa, lo stavo dicendo mentre uscivo, mi è un po' confuso come film Però, cioè, bello a livello magari di animali e tutto, ma non ho ben capito, quindi adesso non succederà Mi ha visto anche quelli alla televisione, quindi, questo è il terzo Molto bello, veramente Mi ha piaciuto Sì, peccato non avere l'età di quelle ragazzine Mi ha piaciuto molto bene questo Questo genere non mi ha piaciuto E io li ho visti anche a casa, quindi questo è stato bello, veramente È stato bellissimo il film, mi ha regalato un sacco di emozioni Mettete il tasto più e seguiteci su questo canale